Conclusione del bimillenario d'Augusto nell'Urbe. Nella nuova piazza dedicata al primo imperatore, aperta fra il lungo Tevere e l'isolato mausoleo imperiale della famiglia Giulia Claudia, l'Arapacis Auguste, riconsacrata dalla visita inaugurale del fondatore del nuovo impero, rivede la luce immortale di Roma. Quest'altare della vittoriosa pace romana, ricostruito con infinita cura e maestria da dispersi frammenti, per espressa volontà del duce e meritatamente celebre per la solenne processione svolta sulle due fiancate del tempietto in un fregio di mirabile bellezza e nobiltà in cui sono effigiati i littori, l'imperatore con i consoli del tempo, l'Augusta, i familiari, i flamini e uno stuolo di nobili e di popolo. Arricchiscono l'ara la teoria delle vittime sacrificatorie, i festoni di frutti e le decorazioni floreali del piano inferiore, modello insuperato di tutti gli artisti del Rinascimento. e сама c'è parte di frutti e l'urisolo di ero, Alla parte di frutti e le decorazioni floreali del piano inferiore, i giornalisti e le decorazioni floreali del campo per l'arricchiscono 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 il i Bleu Paretano. Dopo aver espresso il suo alto compiacimento all'archeologo professor Giuseppe Moretti per la magnifica ricostruzione, il duce lasciando la zona ha passato in rivista gli schieramenti fascisti della Federazione dell'Urbe a un reparto di giovani fasciste in tenuta coloniale, partenti per il campo Roma in Libia